La Camorra continua ad uccidere e sparare tre morti in pochi giorni tra Napoli e provincia e la DDA che indaga per capire cosa stia accadendo in quella che ha tutto il sapore di essere una guerra tra clan nelle varie zone di Napoli. Ieri sera a Casola di Napoli è stato ucciso il capo dei narcos della Giamaica dei Monti Lattari. Intorno alle 21 in via Giovanni del Balzo è stato ammazzato Antonino Di Lorenzo, 53 anni, pluri pregiudicato con diversi precedenti per droga, freddato a colpi di arma da fuoco praticamente sotto casa. Conosciuto con il soprannome di Oligna Mone era ritenuto dall'antimafia l'attuale boss delle piantagioni di canapa indiana e si tratta dell'ennesimo omicidio eccellente nella faida della marijuana. L'agguato si è consumato in pochi attimi, Di Lorenzo è stato raggiunto sotto casa dai killer che poi sono riusciti a scappare rapidamente in scooter. La pioggia di fuoco lo ha praticamente trucidato sfigurandogli il volto. Tutte le ipotesi restano in campo ma l'unica pista porta agli ambienti della Camorra legati al traffico di droga per le forniture delle piazze di spaccio dell'area stabiese e di quella torrese. L'altro pezzo da 90 delle piantagioni, il capoclan Antonio Di Martino invece è latitante dallo scorso 5 dicembre quando è sfuggito alla cattura nell'ambito dell'operazione Olimpo. Numerosi sono i precedenti alle spalle di Di Lorenzo che era stato arrestato anni fa in Francia durante il tentativo di importare un grosso carico di droga. Dopo l'estradizione era stato coinvolto in altre inchieste ed era attualmente a processo per produzione e traffico di droga dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata. La sentenza di primo grado era attesa ad ottobre, intanto sono tre i clan di zona interessati fortemente al business da milioni di euro ogni estate con i Di Martino, Ia Feltra ed Alessandro.